Francesco Paolo Sebastiano, storico gioielliere di Corso Roma, come si fa a mantenere una bottega storica in una città che perde abitanti e spesso anche attrattiva? Per quanto mi riguarda noi siamo alla quarta generazione, quindi abbiamo clienti storici che vengono tramandati da padre in figlio i nipoti, poi grazie alla nostra esperienza riusciamo a trovare aziende che hanno un buon rapporto, un ottimo rapporto qualità prezzo, quindi riusciamo ad andare avanti. Poi ovviamente abbiamo anche i negozi che attirano, qui nelle vicinanze attirano molte persone e quindi ripeto, nonostante le difficoltà che ci sono nel commercio, riusciamo ad andare avanti. Corso Roma e tutte le strade limitrofe, anche le traverse verso la parrocchia immacolata, trattengono ancora tantissime botteghe decennali, storiche della città. Cosa si sente di consigliare all'amministrazione per preservare anche questo patrimonio di ricchezza urbana? Beh, la prima cosa che consiglierei di fare ovviamente è calcolare che Corso Roma è uno, se non l'unico forse viale più bello di Foggia, è il più grande, quindi ampliarlo con le piande che purtroppo sono andate via, quindi bisogna rimpiazzarle, ampliarlo con l'illuminazione, ma vedo che la stanno facendo perché sono qui da stamattina le persone a cambiare le lampade. Certo bisogna ringiovanirla sotto questo aspetto, quindi ripeto, il traffico, la zona pedonale, va bene tutto, però ripeto, dipende anche dall'illuminazione che viene fatta, perché specialmente di sera è un po' buia. Molti cittadini lamentano anche purtroppo una scarsa pulizia nelle strade del mercato, ma anche in quelle di fronte, è così oppure no? No, 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 sinceramente io la mattina quando arrivo alle 8, 8 e un quarto, trovo già l'operatore ecologico che pulisce, poi c'è la spazzatrice meccanica che passa. Certo, il mercato ovviamente bisogna un po' regolarla per l'immondizia che procurano, perché non essendoci più i bidoni, le buste dell'immondizia, oppure vengono dati, ma non vengono utilizzati dal personale che utilizza il mercato, ovviamente è un grande problema. Basta farsi una passeggiata qui dopo le 3 che il mercato va via e per rendersi conto di quello che lasciano. No, no, no.